Siamo notati Gesù e Maria, la liturgia della parola di questa diciossettesima domenica del tempo ordinario è tutta quanta polarizzata sul primato assoluto che Dio e potremmo dire la sua sapienza deve avere nella nostra esistenza. Abbiamo ascoltato nella prima lettura lo splendido passo del sogno di Salomone a Gabaon con l'offerta del Signore dimmi quello che tu vuoi e io te lo concederò. Il sogno un po' proibito, tutti quanti vorremmo avere il famoso sogno nel cassetto e pur essendo molto giovane abbiamo sentito che Salomone chiede l'iscernimento per saper governare distinguere il bene dal male per poter assolvere la sua missione di essere il re della moltitudine del popolo di Israele. E Dio è molto compiaciuto di questo, è da notare la sua risposta, siccome non mi hai domandato per te molti giorni io faccio secondo le tue parole, ti concedo un cuore saggio intelligente, uno come te non ci fu prima di te, ne assorgerà dopo di te. Se uno va avanti nel testo, si vedrà che Dio gli ha concesso insieme con il discernimento anche tutto quello che non le ha chiesto. Facendo ecco proprio un passo del libro della Sapienza, che è anche questo attribuito a Salomone, secondo la tradizione, che dice che con la Sapienza, insieme con essa, mi sono venuti tutti i beni. Quindi se uno ha l'amicizia con Dio e il suo discernimento, tutta la vita diventa una benedizione. Quindi si è letteralmente ricolmati di bene, come la Divina Maria dice nel Magnificat, ha ricolmato di bene gli affamati. Cioè, quando si antepone Dio a tutto e a tutti, Dio ha la possibilità di avere i serbatoi delle sue grazie completamente liberi. Perché a nessuna delle cose meno di Lui che Egli dovesse donare ai Suoi figli, c'è il pericolo che il figlio si attacchi più che a Lui. Il Vangelo riprende in parte questa immagine con le bellissime paragole del tesoro nascosto e della perla preziosa, attribuite da Gesù al Regno dei Cieli. E questo ci fa comprendere che non c'è vita veramente cristiana, vita veramente interiore, diciamo così, di preghiera, se la prima cosa che non è partita dal nostro cuore è la coscienza del valore inestimabile che ha Gesù, il Suo Regno e l'amicizia con Lui. Perché purtroppo oggi la situazione in cui Versa parte della Chiesa è un po' triste. Perché a fronte, diciamo così, di una scristianizzazione spaventosa e di massa, c'è un cristianesimo fondamentalmente spesso, di abitudine un po' tiepidino in giro, di tradizione, insomma, di anime buone e devote che hanno imparato dai genitori le cose essenziali, insomma, hanno fatto il carissimo problema comunale della Chiesa, che hanno conservato la sana abitudine della Messa la domenica e di partecipare a qualcosa, insomma, delle grandi festività e celebrazioni cristiane, ma niente di più. Però questo non significa aver compreso esattamente bene quello che ci porta il Signore. La prima cosa che dobbiamo pregare di avere, se non è nato questo nel nostro cuore, è la coscienza della grandezza del dono che in Gesù Dio ci ha fatto. Vende tutti i suoi veri e compra quel campo. C'è proprio il primato assoluto. Chiunque ha conosciuto veramente Gesù, si è avvicinato, si è convertito, come si dice nelle parole comune, sa qualcosa della verità di queste parole, nel senso che, come scrive San Paolo, conoscere lui la ricchezza della sua grazia, la potenza della sua gloria è diventata la cosa principale, della mia vita e tutto il resto è diventata spazzatura, qualunque altra cosa sia, a livello di importanza nel cuore. Questo giustamente non significa che nella vita comune non si debbano poi adempiere bene e con perfezione tutti quanti i doveri che Dio pone dinanzi a noi. Ultima cosa, e poi concludiamo, la seconda lettura di San Paolo. Noi sappiamo che tutto concorre al bene per coloro che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Attenzione anche qui ai termini che usa. Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Cioè, quando uno ha messo realmente Dio al primo posto e vive nella tensione dell'attempimento del primo comandamento, amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la dana e con tutte le forze. Quindi vive in amicizia con Dio. Perché Dio è amico di tutti, ma non tutti sono amici suoi. E nell'amicizia, così come nell'amore, come sappiamo il rapporto reciproco funziona quando funzionano entrambi i termini della relazione, ciascuno certamente nel proprio ruolo. Quindi quando una persona si mette sotto, diciamo così, le ali dell'altissimo per una scelta libera e consapevole che ha fatto, e lo fa veramente, non sporadicamente, marginalmente, superficialmente o tiepitamente, sta sotto la sua tutela assoluta. Quindi può e deve certamente pensare che tutto quello che accade rientra veramente in un grandissimo disegno salvifico di Dio. Questo certamente vale per tutte le cose che accadono. Però, da quello che ci ho dato di comprendere, sia dalla Sacra Scrittura che anche dalla meditazione sulle cose che accadono, se è vero che non si muove foglia che Dio non voglia, è anche vero che ci sono alcune cose che si muovono, come dire, per volontà diretta ed esplicita, io la chiamo così, di Dio, ed altre che si muovono per permissione divina, quindi senza che Lui vorrebbe questo come cosa diretta, l'esempio classico e il più semplice è che Dio non vuole mai, in nessun modo, il male morale. Quindi, se una persona commette un peccato contro di te, Dio certamente quel peccato non lo voleva. Ecco, qui però entra subito la differenza. Se tu sei un amico di Dio, quel peccato Dio non lo voleva, ma in quel momento Dio ti sta chiedendo di subire le conseguenze di quel peccato. Quando uno purtroppo sta fuori dell'amicizia con Dio, quindi sta in qualche modo sotto la schiavitù, come dice Gesù, del regno del male, ci sono una marea di disastri, di sofferenze, di dolori, di mali che accadono, è che non sono volontà intenzionali di Dio, sono la conseguenza delle nostre libere scelte e della nostra stupida, come dire, anche se involontaria, certamente adesione, a chi ci odia a morte e che ci scatenano l'inferno contro e che evidentemente ci può anche portare all'eternata nazione, no? Quindi sappiamo che bisogna fare molta attenzione a come si interpreta la volontà di Dio perché se si intendono male queste parole si arriva poi alle aberrazioni di alcuni settori della riforma protestante, tipo Giovanni Calvino che diceva che Dio predestina i buoni al paradiso e i dannati all'inferno, perché siccome tutto è soggetto alla sua volontà, se uno va all'inferno è la sua volontà. Il che, come capite, è una bestemmia assolutamente intollerabile, è falsa. Dobbiamo molto bene comprendere queste cose. Durante questa liturgia dobbiamo semplicemente chiederci se e quanto noi apprezziamo e stimiamo Gesù e il suo regno come la cosa in assoluto più grande che ci sia, come quanto noi stimiamo il vivere nella sua amicizia e nella sua grazia come la cosa più importante che ci sia e come quanto siamo persuasi e certi che dall'amicizia con Lui vengono tutti i beni, così come se perdo Lui, insieme con Lui perdo anche tutti i beni della vita di questo mondo. Ricordiamo sempre una cosa che quando non c'è quest'ordine noi leghiamo le mani all'Altissimo, nel senso che se Dio non vede e ordina nella nostra esistenza, cioè che il nostro cuore è saldamente, totalmente radicato a Lui, non può, certamente non può, non come limitazione per Lui, ma in vista dell'amore che ha per noi, darci tutti i beni che vorrebbe. Perché i beni che vorrebbe darci qualora noi non siamo totalmente uniti a Lui e quindi consideriamo quei doni non come cose fine a se stesse per attaccarci, ma come espressioni temporali ed esterne del suo amore verso di noi e quindi le accogliamo con gratitudine, ricambiando, ma anche con distacco, senza attaccarci a quelle, per la nostra rovina noi chiudiamo le mani a Dio. Quindi se noi siamo completamente con Lui e il nostro cuore è completamente suo, insieme con la Sapienza, come scritto Salomone, ci verranno tutti i beni. Se così non è, non abbiamo né la perfetta amicizia con Lui, ma abbiamo una vita brancolante, coscillante, né tanti beni che impediamo a Dio di donarci perché se ci ridonassi diventerebbero la nostra rovina. Dico sempre sarebbe come lo zucchero dato a un diabetico. E se vediamo che nel nostro cuore continua a stare attaccamenti o cose malsane, dobbiamo avere il coraggio di amputare, di operare i buoni tagli dentro di noi e chiedere al Signore la grazia del distacco da tutto e di mettere sempre Lui in assoluto al primo posto. Sappiamo che la Divina Maria, insieme alla pienezza di grazia che ha ricevuto e quindi ha tutto l'incanto che era la sua vita, ha ricevuto insieme con quello tutto. Tutto, niente escluso. Non c'è bene beneficio dell'Altissimo che ella non abbia ricevuto proprio perché per lei nulla era pericoloso. Perché per questo suo assoluto attaccamento a Dio e per la sua straordinaria umiltà e libertà interiore ha consentito al Signore, credo che sia l'unico caso in suo modo assoluto, di poter aprire tutti i rubinetti delle sue grazie e ricormarla di grazia e di beni in misura assolutamente straordinaria. Da lei prendiamo esempio perché mettendo Gesù e il suo re in primo posto possiamo da Lui ricevere insieme con Lui tutti i beni e i benefici anche in questa vita. Siamo lovati, Gesù e Maria.